Benvenuti a tutti ai Cugini del Terribile da parte di Simone Guidi ed Emiliano Buttarelli Allora, nuovo orario per i Cugini del Terribile, questa è già la nostra seconda puntata, quindi... Eh, ci stavano prendendo la mano, caro cugino, ci prendono la mano Sì, ci stiamo abituando al folto pubblico che ci ha sempre seguito in orario preserale alle 19 Adesso si aggiunge anche il folto pubblico che ci segue alle 21 e 30, penso Ma che dici folto? Vasto, vastissimo, in mezzo, sconfinato Eh sì, 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 vastissimo, certo, perché le 9 e mezzo di lunedì sera è notorialmente l'orario in cui la gente prende i telefonini, gli iPad, accende i computer e ascolta la old radio Certo, certo, e quindi c'è molto più pubblico per noi per potervi coinvolgere e vorremmo appunto inaugurare questo nuovo corso ascoltando qualcuno dei nostri nuovi radioascoltatori Così, con il nuovo orario di cugine terribile, sentiamo se c'è qualcuno in linea, pronto? Pronto? Beh, probabilmente c'è un problema tecnico, forse il centralino è saltato, pronto? No, non c'è nessuno, però voglio dire che anche qualcuno dei nostri vecchi ascoltatori può sentirsi libero di telefonarci Era una cosa così, giusto un test per iniziare a tastare il polso di Atom Radio Sì, basta poco, giusto un augurio, un saluto di un radioascoltatore al telefono, pronto? 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 Eh, niente Niente, niente, va bene Simo, niente, magari hanno appena finito di mangiare, stanno con Netflix, fanno dell'altro Andiamo avanti con i cugini del terribile Emi? Ecco, ecco, abbiamo un ascoltatore che ci saluta, ecco, ciao, da dove chiama? No Emi, ero io, mi passi per favore la scaletta lì Ah, eh, sì, ecco, ma pensavo che fosse te I cugini del terribile